Ciao, sono Cristian Crepaldi, titolare di Autoriparazioni NovaCart. Ti ricordo che il 25 e 26 maggio ci sarà un nuovo evento molto importante per il mondo dell'automotive, Autotrans Milano 2024. Offrirà la possibilità di conoscere tutte le novità in ambito nazionale e internazionale di diagnostica e tutto quello riguardante il mondo dell'automotive. Quindi se sei un mecatronico o un appassionato di auto, questo è l'evento che fa per te. Noi saremo presenti come partner e presenteremo il nostro corso unico in Italia, impianto GPL facile e veloce in 10 step, dedicato alle officine che installano già impianti GPL e che vogliono iniziare a farlo, sia su auto benzina, iniezione diretta e indiretta, e auto diesel. Iscriviti qua sotto al link, potrai generare il tuo biglietto gratuitamente, ti aspetto all'evento il 25 e 26 maggio, sabato e domenica, al Autotrans Milano 2024. C'è il nusso sul naviglio. Grazie. Grazie.